Domen, che dire della tua storia con questo club? Sei sicuramente uno dei più amati nella Rosa del Venezia, da sempre, possiamo dirlo. Cosa ti fa provare il tuo rapporto con i tifosi? No, sicuramente è una bella cosa sentire l'affetto della gente. Io ogni domenico, ogni sabato dormo migliore, me stesso per questa squadra, quindi lotto sempre, lotterò per sempre, poi se sono il più preferito poi quelli che lo decidono loro, però grazie a tutti i tifosi. Grazie Domen. Michael, per te tre partite ufficiali e due gol. Direi che come inizio non c'è male. Ci sono tre partite per te e due gol, quindi non è un buon start. Hi, no, è un buon start. È sempre buono di scorrere, di aiutare il team a scorrere gol, ma non è enough. Dobbiamo continuare a spingere, cercare di trovare la vittoria, cercare di trovare il nostro modo, quindi dobbiamo continuare a spingere. Grazie mille Michael. Bisogna continuare a spingere perché fare gol non è abbastanza se poi non si arriva alla vittoria. e l'obiettivo di tutti questi ragazzi è evidente che sia quello.